Ciao a tutti ragazzi, in questa video lezione vogliamo determinare le soluzioni della disequazione x al quadrato più 3x più 4 maggiore o uguale di 0. Cominciamo a risolvere l'equazione associata che è la seguente, x al quadrato più 3x più 4 uguale a 0. Quindi x1,2, le soluzioni di questa equazione, è uguale a meno 3 più o meno radice quadrata di 3a al quadrato, quindi 9, meno 4 volte a per c, quindi meno 16, fratto 2. Continuiamo i nostri calcoli, tutto questo è uguale a meno 3 più o meno radice quadrata di 9 meno 16, quindi meno 7, attenzione a questo valore, fratto 2. Ci troviamo nel caso delta uguale meno 7, quindi il delta, come è facile vedere, è minore di 0. Se il delta è minore di 0, dobbiamo andare a guardare il coefficiente della x al quadrato ed il verso della disequazione. In questo caso il coefficiente della x al quadrato è positivo, perché qui si sottintende 1. Il verso della disequazione è maggiore o uguale di 0, per questa ragione l'esequazione è verificata per ogni valore di x appartenente ad r. Bene ragazzi, per quanto riguarda questa video lezione non c'è altro, sperando che sia stata chiara, vi ringrazio per averla seguita.